Salve ragazzi, questa volta vi darò consigli su come platinare Mortal Kombat 11 Allora, Mortal Kombat 11 rispetto al 9 e al 10 è un platino molto molto più semplice Perché? Perché praticamente c'è quasi da farmare in maniera offline addirittura le torri del tempo E queste torri del tempo possono essere fatte anche solo impostando l'IA del giocatore in automatico Quindi potete scegliere il vostro personaggio preferito, mettergli una build che più vi piace e farlo combattere Fargli combattere tutti gli incontri all'interno della torre Quindi è praticamente un platino veramente molto molto facile Quindi dovete praticamente entrare nelle torri del tempo e fare queste torri del tempo Che si resettano ogni volta, vi sbloccano nuovi oggetti Quindi insomma sbloccate anche nuovi equip, skin e tante tante altre cose Io vi consiglio assolutamente, dato che ne sono 250, di fare nel mezzo anche le torri personaggi Ossia, scegliete un personaggio, il vostro preferito e completate tutte e 5 le fasi Perché vi sbloccherà anche delle esultanze e delle provocazioni che servono per alcuni trofei Poi ci sono vari trofei, insomma ho fatto anche guide per ottenere questi trofei Quindi nel caso date un occhio sul profilo, io eventualmente ve le metto in alto a destra Che le potete cliccare, così vi usciranno anche le guide per questi trofei in particolare Poi dovete oltre fare tutte queste torri, fare un piccolo trofeo con Dvora Eppure ci sta un piccolo video guida che vi mostra come farlo Una banalità, dovete trasformarvi in insetto e sconfiggere il vostro avversario E poi altri trofei molto molto semplici come fare 25 incontri nella battaglia Sarebbe praticamente creare una squadra e fare dei match Veramente easy, molto molto semplice Create questa squadra e la squadra combatte da sola Quindi trofei veramente banali Dopodiché una volta che arriverete a completare tantissime, tantissime torri Assolutamente dovete completare la storia per platinare il gioco Non è richiesta nessuna difficoltà Quindi basta completare la storia una volta e siate a posto Dopodiché entrate nella cripta con tanti tanti soldi Mi mettete lì Un'altra cosa che vi consiglio è fare tante brutality e tante fatality Perché vi daranno dei cuori Che sono praticamente una valuta Che vi permetterà di aprire degli screen in particolare Quindi fate tante fatality e tante brutality Che vi sbloccherà anche altri trofei inerenti al platino Per il resto ragazzi, se avete bisogno di altri consigli Non esitate a chiedere Sinceramente il platino veramente non è una cosa complessa Mi sembra molto di più una cosa di farming Rispetto a fare cose veramente difficili Poi una cosa che dovrete fare è completare le torri Quelle lì classiche, easy Con dieci personaggi differenti Questa è un'altra sciocchezza Perché lo potete fare anche in modalità principiante Quindi è veramente facilissimo questo platino Insomma, andate lì Fate questi trofei Sarà veramente semplicissimo Poi un'altra cosa che dovrete fare Dovrete fare tutte le fatality di tutti i personaggi Quindi due fatality per ogni personaggio Insomma ragazzi, il platino sarà vostro Molto molto semplice Poi ci saranno altri trofei di miscelani Eventualmente, insomma, se avete bisogno di consigli o altro Scrivetemi, non esitate E sarò lieto di aiutarvi Sono su Twitch da lunedì al sabato O commentate sotto al video Oppure passate in live Un abbraccione a prestissimo